Innanzitutto ringrazio per il benvenuto, penso che ad oggi in Serie C ma anche in Serie B ci siano poche squadre grandi come il Pescara, come Storia, come Pubblico, come Piazza. Io dopo tutti questi anni che ho fatto bene in Lega Pro, appena ho avuto la chiamata del Pescara, che c'era già stata mezza cosa lo scorso anno, quest'anno c'è stata la possibilità reale di venire e non ci ho pensato due volte perché per me questo significa un grande salto nella mia carriera. Sì, sicuramente tre anni fa da Siquale Onsi ho fatto 13 gol, diciamo che è stato il primo anno di Covid, comunque la squadra ha l'obiettivo di salvarsi, quindi anche lì credo che i gol siano stati importanti per aiutare la società e tutti a mantenere la categoria. Sì, a San Benedetto penso che lo sapete tutti, abbiamo fatto un anno senza soldi, quindi anche lì aver fatto 12 gol è stato un doppio motivo d'orgoglio. L'anno scorso fino a Natale ho fatto 7 gol in 15 partite, quindi anche io personalmente pensavo di farne una quindicina, dopo ci sono state delle problematiche per cui ho rallentato un po', ma credo che il gol è sempre importante, ma soprattutto aiutare la squadra, credo che per chi capisce anche di calcio lo vede anche da fuori questo. Sì, sì, una prima punta che, come dicevo prima, vive molto l'area di rigore, mi piace venire incontro, aiutare la squadra, ma nell'ultimo periodo ho imparato anche ad attaccare gli spazi, che comunque in Lega Pro è una cosa che serve anche per dare ossigeno alla squadra quando è in difficoltà. E niente, sicuramente sacrificio e poi ecco quando il pallone arriva in aria diciamo che lì è il mio punto forte.